Quarta vittoria consecutiva per la Rossanese che va a vincere sul campo dell'Acri. Vittoria importante per la squadra Cosentina che riesce a dare seguito intanto alla qualificazione nella semifinale di Coppa Italia ottenuta mercoledì contro il Praia Tortore che vedrà la squadra appunto impegnata nella semifinale con la Morrone ma come dicevamo quarta vittoria consecutiva che proietta la squadra di Rossano al secondo posto in classifica insieme con lo stesso Praia Tortore e a tre punti di distacco dal Belvedere. Una vittoria fondamentale questa perché da seguito ha dei risultati molto importanti dell'ultimo periodo proprio per questa squadra che dopo un inizio un po' incerto adesso sembra aver trovato la strada giusta per poter proseguire come del resto fece anche lo scorso anno nelle zone altissime della classifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.